Ciao sono Bogdan, oggi andiamo a parlare di un tema impopolare, ossia ricchi, quindi persone ricche, persone di successo, come si sono arricchite e perché tu non riesci ad arricchirti. È totalmente impopolare quello che sto per dire, starà sulle palle a tantissime persone, ma questa è la realtà dei fatti e c'è poco da fare. Allora, ricchi, ricchezza, eccetera, tra l'altro oggi c'ho un mignon parcheggiato lì, non so chi ce l'ha messo. Allora, ricchi, ricchezza, eccetera. Partiamo da delle credenze, dei pensieri che hanno la maggior parte delle persone, soprattutto in Italia. C'è una frase molto bella, secondo me, che dice, gli italiani amano i soldi, ma odiano i ricchi. Gli italiani, la ripeto, gli italiani amano i soldi, ma odiano i ricchi. Questa frase è letteralmente vera. La maggior parte delle persone, quando sono davanti alla TV come degli zombie imbambolati, vedono una persona di successo in qualsiasi ambito, quindi che sia un imprenditore, un atleta, un qualsiasi tipo di successo, così come lo intendiamo in maniera generale, e poi ognuno ha la propria idea di successo, ha qualcosa da ridire di quella persona ricca che ha avuto successo. Perché all'italiano a tutti piacerebbe avere i soldi, no? Il problema qual è? Che le persone pensano che i ricchi abbiano rubato per avere dei soldi, abbiano fatto delle cose illegali per avere dei soldi, abbiano sfruttato delle persone, così sono arricchiti alle spalle dei poveracci. Tutte cose che di fatto non hanno senso neanche di nominare. Quindi, l'italiano quando vede una persona ricca, ovviamente dico in linea generale, c'è chi li vede, li ammira, eccetera. Ed è quello poi il senso di questo video, andare un po' a scardinare delle credenze che le persone hanno. Prima credenza è che appunto le persone ricche abbiano rubato, si sono sposati con quelli perché aveva il patrimonio, allora adesso lui è ricco perché si è sposato con quelli, hanno sfruttato i dipendenti, allora adesso lui è ricco perché si è trasferito a Dubai, non paga le tasse, quindi adesso è ricco. C'è tutte ste robe, tutta sta roba dietro che non ha proprio senso. Partiamo da dati statistici, cioè alla mano, eccetera. L'80%, l'80%, quindi 80 persone su 100, l'80% dei milionari è partito da zero. Quindi 80 milionari su 100 sono partiti da zero, totalmente da zero. Cosa vuol dire? Che la loro ricchezza non l'hanno sposata, quindi non si sono sposati con una persona ricchi e sono diventati ricchi, non hanno ereditato dalla famiglia, benestante, eccetera, non li hanno vinti, quindi lotteriena, lotto, tutte quelle cagate lì, ma li hanno costruiti, sono stati i primi della famiglia a costruire la ricchezza per diventare milionari e questo è già un dato. Quindi se tu sei a zero, sei sulla strada giusta per poter diventare milionario. Ora, questo ragionamento, da un lato, dovrebbe scaturire interesse, perché uno dice, cavolo, se 80 milionari su 100 sono partiti da zero, come io sono a zero, dovrei darmi da fare. E qui viene la cosa brutta per la maggior parte delle persone, che non accettano questa cosa, cioè che molte persone sono partite da zero e sono arrivate a un certo livello. Anche perché se così fosse, nella loro testa, direbbe, io che cazzo sto facendo allora? Sto perdendo tempo. Dovrei mettermi anch'io a fare determinate cose, che ovviamente non hanno voglia di fare, per raggiungere determinate cose. E quindi si raccontano un sacco di scuse, di cazzate relative alle persone ricche. Ora, non sto dicendo che tutti i ricchi sono bravi, tutti i ricchi hanno fatto cose etiche, tutti i ricchi... Cioè, capiamoci. Io sto parlando di dati statistici, poi ovviamente ci sarà quello che non fa le robe come si deve, c'è quello che ruba e c'è... Ma come? Da tutte le parti, ok? Quindi il ragionamento da fare è questo. Le persone, la maggior parte delle persone ricche, si sono costruite la ricchezza dal nulla. Come? Io dico sempre e sempre lo ripeterò, la differenza tra una persona di successo, una persona ricca, e una persona che non ha successo e vive nella povertà mentale, di fatto è la mentalità. Hanno fatto una specie di gioco, ossia hanno preso l'intera popolazione del mondo, l'hanno rimessa a zero, tutti quanti allo stesso livello. Secondo questa simulazione, nel giro di qualche anno, i ricchi torneranno a essere ricchi, i poveri continueranno a essere poveri, pur partendo tutti da zero. Perché quello che conta in realtà nella ricchezza è solo ed esclusivamente la mentalità che ci metti nel fare le cose. Ma in tutti gli ambiti del successo, io penso sempre anche a tutti, ad esempio, gli atleti, gli sportivi, che non hanno la giusta mentalità per arrivare a certi livelli, anche se hanno magari lo stesso talento di altri o magari anche più talento di altri. Se a parità di talento uno si impegna al massimo tutti i giorni, si allena come si deve, mangia come si deve, non riesce a far baldore, eccetera, e l'altro tentenna, a parità di talento chi è che vince? Chi è che avrà più successo? Ovviamente è quello che sta in riga e fa le cose che servono per arrivare al successo. Quelli sono i veri sacrifici. Le persone comuni pensano che i veri sacrifici siano magari svegliarsi presto la mattina, andare a lavorare dieci ore al giorno, che non c'è nulla di male, ma secondo me quello è un lato di pigrizia. Ma sei scemo? Che cazzo dici? Come? Io lavoro dieci ore al giorno in fabbrica a martellare, quarant'anni che faccio sto lavoro, tutte ste cose qua, che non sta scritto da nessuna parte che uno deve andare a martellare dieci giorni, dieci ore al giorno per quarant'anni, per non ricevere, cioè vabbè, sono ragionamenti talmente ostrusi e siamo cresciuti con tutte ste cose fin da quando eravamo piccoli. Io cerco di dire ai miei figli determinate cose che potrebbero essere potenzianti nel loro avvenire piuttosto che limitare e quando, a parte che vabbè non guardo la tele, però magari capita che la cena guarda le cose, vedono delle persone magari, non sto a dire Apollo lì ha rubato, ecco perché prende il volo in business class oppure guardano magari gli youtuber di turno, loro volano magari appunto in prima classe, su Emirates volano a Dubai, non gli dico questi coglioni che hanno fatto due video di merda e adesso sono pieni... No! Sono stati bravi! Cioè, ad esempio, guardano lui e Sophie, ok? Ogni tanto li guardano, hanno visto che viaggiavano in prima classe, e mio figlio ha detto papà perché non viaggiamo anche in prima classe e ci vogliono... Eh, ok. Ma voi vi rendete conto di quello che hanno fatto lui e Sophie? È solo un esempio, eh? Cioè, si parla di... Adesso non so il primo video che hanno postato, forse nel 2017-2016, e queste persone, questi due ragazzi, hanno fatto video, un video al giorno, per anni interi. Io vi voglio vedere a voi, mettervi lì tutti i giorni, pensare a un video da fare, mettersi lì, filmarsi, belli o brutti che siano, non mi interessa quello, ma io dico l'atteggiamento che hanno, la mentalità che hanno nel fare queste cose. Mettersi lì 365 giorni all'anno, fare un video di un'ora, di due ore, prendere il video, metterlo, editare, tagliare, mettere la musica, le scritte, le cose, le fare... postarlo tutti i santi giorni, su YouTube, fino a che, mano a mano, mano a mano, mano a mano, hanno fatto il botto, ok? Adesso la gente li vede, dice, guarda questi coglioni, perché io li sento, cioè, purtroppo li sento, questi personaggi, guarda questi cretini, due video del cavolo, sono migliori... Sì, ma tu vedi adesso, ma non hai visto quello che hanno fatto? Questi sono i sacrifici, perché loro potevano andarsene benissimo a lavorare 8 ore, a fare gli impiegati in azienda, busta paga, fino al mese, si lamentavano tutta la vita. Invece ho detto, no, non me ne frega un cavolo, io faccio un video al giorno per 3 anni, per 5 anni, voglio vedere se non ce la faccio, ce l'hanno fatta, ma posso tirar fuori qualsiasi tipo, da qualsiasi settore, cioè, veramente, da ogni cosa, ne tiriamo fuori qualcuno per rendere l'idea. Poi io mi scaldo su ste cose, perché veramente c'è una cultura dietro alla ricchezza, ai ricchi, che fa veramente ridere. La Ferragni, ok, ora, a me non me ne frega niente, cosa fa, cosa non fa, non mi interessa. Sento le persone che dico, eh, guarda quella lì, fa due foto del cavolo, gli danno 10.000 euro a post, per mettere su quella roba, ma, non so se avete visto, a me piace vedere, ad esempio i documentari, i filmati delle persone di successo, ho visto i Ferragni, c'è, ci sono, di tutti, di tutta la durata della serie tv, io prenderei quei 10 secondi, quella frase, e farei un documentario solo su quella frase. C'è lei, che parla con un suo collaboratore, un suo amico, non mi ricordo cosa, a un certo punto, il suo amico dice, le dice, ti ricordi quando stavi sveglia, fino alle 2, le 3 di notte, a modificarti le foto, perché poi il giorno dopo le postavi, quelli, quei 10 secondi, sono da fare il documentario, poi tutto il resto viene dopo, ma cazzo, ma fate vedere, veramente lei, quando era giovane, quando aveva 16 anni, c'ha 7, adesso non lo so, che è stata una delle prime, a fare ste robe, a creare il blog, a creare i profili, con le foto, si cambiava, 2-3 volte al giorno, per fare le foto, per farsi vedere, notori, ma, cioè, adesso ditemi, chi si mette a fare una cosa, non, non vieni pagato, cambiarsi 2-3 volte al giorno, farsi le foto, stare sveglio, fino alle 3 di notte, a modificare le foto, a migliorarle, eccetera, ma chi? adesso la gente li vede, dice, ah guarda, sti due deficienti, che vanno di là, adesso la gente vede, il viaggio, l'albergo bello, le cene di gala, eccetera, ma quello che è successo prima, bisogna tenerlo in conto, le persone guardano sempre, la fine, ne tiro fuori un altro, top, Gianluca Vacchi, di questo veramente, ne ho sentite di ogni, ne ho sentite di ogni, è che gli danno i soldi, l'hanno buttato fuori dall'azienda, la famiglia non lo vuole in società, allora gli danno x milioni, così se ne sta in giro a farlo scemo, a fare i balletti, a bordo e piscina, eccetera, ora, va bene, Gianluca Vacchi, proveniva da una famiglia benestante, e fin qua, però anche lì dico, quante famiglie benestanti hanno dei figli, che gli dai uno, due milioni, tre milioni, e se li sputtavano tutti, lui ha avuto la brillante idea, all'epoca, quando era molto giovane, di mettere gli occhi, su un'attività secondaria, che aveva la famiglia, una società secondaria, che secondo lui, era altamente sottovalutata, e altamente scalabile, rispetto che all'epoca, quindi cosa ha fatto, si è indebitato, si è indebitato fortemente, per acquisire tutte le quote societarie, che avevano i propri familiari, in famiglia, lo ripeto, si è indebitato, e anche qua, voglio vedere, chi si indebita, per andarsi a comprare, delle quote, vabbè, quindi si indebita, compra le quote, di questa famiglia, a capo di questa azienda, ci va il cugino, il cugino, molto bravo, fa esplodere l'azienda, Vacchi, che ci aveva visto lungo, ora, potrebbe tranquillamente, non fare nulla tutto il giorno, e non è il tipo, perché si vede che fa mille cose, fa il DJ, fa di qui, fa di là, fa di su, fa di giù, è un imprenditore, perché conosco delle persone, che hanno avuto a che fare con lui, e hanno detto, che gli hanno visto comprare, determinate cose, determinate società, determinate aziende, a 3, 4, 5 milioni, e a rivenderle poi, nel corso del tempo, a 50, 60, 70 milioni, quindi non è proprio, come si dice, come si pensa, ok? Lui stesso dice, non ricordo, le cifre, però mi diceva, che quello che mi aveva lasciato, mio padre, io gli ho fatto fare il per cento, per cento, se il padre gli ha lasciato, 2, 3 milioni, lui adesso ne ha 200, 300, ed è la mentalità, corretta, da utilizzare, per ogni tipo di cosa, come quelli che vincono, all'enalotto, lotterie, e balle varie, vincono un milione, comprano la casa, magari anche la casa al mare, cambiano la macchina, alzano, leggermente, il tenore di vita, aiutano qualche parente, qualche sfizio, buon finiti i soldi, eh no, ma lui è, fate una prova, vi mettete a tavolino, dite, ok, ho un milione di euro, cosa ci faccio, tra 5 anni, ce ne devono essere 5, vedete se siete riusciti, a tirare giù qualcosa, qualche idea, non, sì, vabbè, non faccio più niente, campo, fino a che, che vivo, ma che ragionamento è? comunque, io sono dell'idea che questi che ho citato, con le cose che hanno fatto, sono i veri sacrifici per arrivare alla ricchezza, arrivare al successo, una ragazza che sta fino alle 2 di notte, 3 di notte, a sistemare il lavoro che ha fatto durante il giorno, il sacrificio di una persona che si indebita fortemente, perché crede in qualcosa e poi quella cosa esplode, ok, sono tutti veri sacrifici che secondo me le persone comuni non fanno e non farebbero mai e trovano al contrario delle scuse belle e buone da rifilare al ricco di turno che passa davanti allo schermo. questo è quanto, questo è quello che secondo me è sbagliato nella maggior parte delle persone a livello mentale riguardo ai ricchi, alla ricchezza eccetera, ci sarebbe da fare un video di penso 7 ore, però poi magari ne faccio altri, scrivetemi cosa ne pensate dei ricchi, della ricchezza eccetera, io sono Bogdan, lascio qua sotto come al solito, anche io avevo una piccola società di capitali, ora attualmente mi sto dedicando al 100% a quello che è la creazione di una rete molto grande di network, tutta fatta in maniera semi digitale, tutta semi automatizzata partendo da zero, lascio qua sotto i link, noi ci vediamo nei prossimi video, ciao!